Becky, preparati! C'è un professionista in campo! E la palla va a canestro! Ops! Oh no, non va bene! Cosa facciamo? Calma, la tireremo fuori! Tieniti forte! Riesci a vederla? Vedo un vaso rotto e la palla! Quindi la palla è tua? Acchia per acchia! No! Che succede? La nostra povera palla! Finirete tutti così! È stato orribile! Mi sono spaventata tanto! Stai calma, ho un piano B! Nonno? Non svegliarlo! Se lo fa non potremo avere il suo trofeo! Lo so! Ops! No! Un, due, tre... Stella! Spegni subito! Ninna, nanna, nonno, ninna! Silenzio! Il nonno è bravo! Non ha più bisogno di questa palla! Muoio dalla voglia di giocare! Ecco che arriva! Ops! Dovremmo spostarci fuori! Che succede? Sono sveglio! Ah, il mio programma preferito! A chi tocca? A me! Guarda e impara! Ops! Oh no! Phil! Se il nonno lo scopre, si infurierà! Farò di te una palla! Phil! Sveglia, sveglia! Dobbiamo trovare la palla! Dammi una spinta! Non se ne parla! Mi fa male la schiena! Tocca a te tenermi in braccio! Dovresti perdere un po' di peso! Vedo la palla! Becky, dove sei? Oh, eccoti! Dovresti rinforzare i muscoli! Andiamo! Ecco il mio piano! Cosa? Passeremo attraverso il buco nella recinzione! Aspetta! Potrebbe essere pericoloso! Vediamo! Ingresso solo agli autorizzati! Oh no! Povero giocattolo! Ci serve un piano diverso! Guanti protettivi! Ginocchiere! Un casco! E occhiali! Ora sei pronta! Il segreto è essere coraggiosi! Buon volo! Ragazzi, non fatelo a casa! Ho cambiato idea! Yuhuuu! Cosa? Voglio ristarne fuori! Ok, femminuccia! Ci penso io! Devi solo lasciarlo cadere! Sei pronta? Vai! Non sono pronta! Ma che ti prende? Lascialo! Non posso! Non fatelo mai a casa! Hai! Ops! Mi dispiace! I bambini di oggi hanno una fervida immaginazione! Sta leggendo il giornale? Aspetta qui! Spero che il nonno non si svegli! A quanto pare la canna da pesca è agganciata a qualcosa! Che schifo! Ma che ti serve la canna da pesca? Ora lo vedrai! L'ostura lavandino è qui! Ottima idea! Ti guido io! Farò dei buchi nella recinzione! Ecco fatto! Lancio dell'ostura lavandini! Centro! Tira! Cavolo! La corda è strappata! È Manu! Lo è! Gli piace il tuo smalto? Qualcuno vuole unghie nuove? Manu ha bisogno di una nuova manicure! Presa! Vola a prendermi la palla! L'hai mancata! Manu però sta andando alla grande! Tira! Sta funzionando! Fermi! Ma non non osare! Mi sta trascinando! Fai qualcosa! Ora ti prendo! Mi serve un secondo! Il nonno ha delle cesuie da giardino! Spero che non si svegli! I soccorsi stanno arrivando, fratello! Ce l'ho fatta! Il grande piano è andato a monte! Ah, che fortuna! Devo asciugare il bucato! Questa volta funzionerà! Il segreto è mimetizzarsi! Chi c'è qui? Nessuno! È la mia immaginazione! Oh, forse no! Andiamo a controllare! Dov'è andata? Ho un brutto presentimento! Oh, i miei vestiti! Hai perso i pantaloni! Un sacco della spazzatura e il travestimento perfetto! Ah, le cose inutili continuano ad accumularsi! Ecco la palla! Sì, l'ho presa! Ho recuperato la palla! Quella non è la palla! Farò di te una palla! No! Phil! Stai bene? Ah, bambini! Aiuto! Ti presento il nuovo postino! Non ne hai l'aspetto! E ora? Oh, sì! Che fallimento! Eccomi qui! Meglio non svegliarla! I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands! Oh no! Hucky! No! Vuoi giocare? Ti piacciono i grattini? Dovrei andare! Ehi! Lasciami andare! Mi serve la palla! La mia gamba! Che male! Aghi! Bravo ragazzo! Oh! Un pacco! Che cos'è? Ah! Grazie! Ma no! Puoi riportarlo al mittente? Le scatole sono fantastiche! Phil! Rilassati! Il piano è fallito! Ma non mi arrendo! Phil! Rilassati! Questa volta ci penso io! Premi su mi piace se credi in me! La vecchia signora sta bevendo del tè! Dormi! Ha funzionato! Babbè! Babbè! Ops! Ah! Aiuto! Ah! La trappola ha funzionato! Fantastica! Oh no! La palla! È imperdonabile! Devo salvare la mia sorellina! Nonno! Dormi bene! Mi serve solo la tua pistola! Perfetto! Andiamo a prenderla! Huggy! Presa! Ops! Prendi! Yeah! Cookie gioco! Questo posto è inquietante! Questo è il braccialetto di Becky! Deve essere qui! Oddio! È la vecchia signora! Con un coltello! Devo nascondermi! Non credo che mi abbia visto! Ai! Le trappole sono ovunque! Ssh! Sono io! Ora ce ne andiamo! Nasconditi! Dov'è andata? Becky! 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 Ssh! Andrà tutto bene! Cercherà nella stanza! Corri! Ascolta! È importante! Silenzio! Puoi dirimelo dopo! Ah! Ecco è! Corri! Eccovi qui! Ehi! Piano! Non vedo l'ora di tornare a casa! Ah, poveri! Non ne hai passate abbastanza! Grazie! Non mi piace questo gioco! Becky! Phil! Cos'è successo? Nonno aiutami! Ci sta inseguendo! Ehi! Lei! La vecchia signora Mercoledì! è da tanto che non ci vediamo! Mercoledì! Ciao tesoro! Tesoro? Sono così confusa! Ho una torta! Fatti sotto! È Mercoledì! La mia vecchia amica! Torta! Quei vecchietti sono pazzi! Brava! Buon appetito! Dov'è la mia palla? Nonno! È una lunga storia! Un viaggio nella memoria? Ha vinto di nuovo! Mi devi un bacio! Che schifo! Siamo troppo giovani per guardarlo! E anche tu! Un po' d'uva? Ancora un po'! Mangia, uccellino mio! Caspita! La recinzione è infinita! Ti ricordi come ballavamo? Oh, ci divertivamo un mondo! Ehi, ragazzi! Ehi, Mercoledì! Date un caloroso benvenuto a Bijou! Poverini! Beccolpo elettrico! Wow! È bellissima! Hai bisogno di un parasole? Grazie! Vuoi bere qualcosa? Grazie! Come mai? Riceve tutte le attenzioni! Ehi! Aiuto! Sto negando! Che sta urlando? Ecco un salvaggiante! Grazie mille! Cosa c'è sul bicchiere? Ti va un appuntamento? O un appuntamento con me? Passo, ragazzi! Gli ho chiesto di uscire per primo! No! Lei viene con me! No! Esco io con te! Ma che vi sarà del nostro appuntamento? Brucia! È un sì! Ci vediamo dopo! Non vedo l'ora! Ehi, tu! Oh no! Phil, sei perfetto! Sei pronto per un doppio appuntamento, Sky? Certo che sì, Phil! Ma dove sono le ragazze? E che ora è? Quella non è la mia mano! Vieni, Manu! Ehi, ciao! Ehi, ragazze! Enid, questo è per te! Mercoledì, eccoti qui! Sei molto gentile, Sky! Sono così emozionato di vederti, mercoledì! E no! Sto solo facendo stracci! Forza, entriamo al cinema! Andiamo? Firma! Controllo di sicurezza! No! Ok! Lo lascio fuori! No! Le caramelle sono un no secco! Ok, le mangerà tutto! Cosa sta facendo? I miei occhi! Entrate, ragazzi! Puoi prenderti tutte le gomme! Un solo pezzo! Che ingordigia! Voglio i popcorn! Cosa? Sono insipidi! Questo popcorn ha bisogno di qualcosa di speciale! Ora sì che si ragiona! È disgustoso! Un rogno gigante! Che incubo! Che bel film! Wow! Super inquietante! Andiamo, Sky! Il tavolo è prenotato! Non l'avevo visto! Inid! Cosa prendi? Questo? Oppure un dessert? Ho finito! Grazie, Manu! Brava! Brava, Mercoledì! È impressionante! Torna subito! Sei prenotato! Manu! Ho un piano! Datti una regolata a Inid! Buon Dio! Devo sbrigarmi! Ehi! Come va? Ah! Sei già prenotato? Bene! Ciao! Chi era? Giuro che non la conosco! Non vi piace il vostro ordine? È stato divertente! Non lo era! Scusa, Inid! Riprendo tutto! Passiamo al secondo piatto! Per cena avrete uno scherzo! Oh, ragazzi! Ditemi in quale di questi due bicchieri ho già messo il colorante! Scrivetelo qui sotto! Ecco i vostri drink! Un'offerta di pace! Offro io! Qualcosa mi puzza! Però è buono! Tutti i tuoi denti sono neri! Anche i tuoi! Mercoledì! Cos'hai messo nel drink? La risposta è che la tintura era in entrambi i bicchieri! Inid, mi dai la mano? Posso avere la tua mano, Phil? Apri la bocca! Apri la bocca! Cosa sono questi rumori? Vengono dal tubo! Dobbiamo aiutarlo! Ma dove diavolo siamo? Esci subito! Scusa, Inid! Dove siamo? Grazie, Sky! Dove andiamo adesso? Ci dai pazzire lì dentro! Mamma mia! Andiamo a vedere! Ma quella è in mano! Prima le signore! Muoviti! Forza! Sono dietro di te! Vai! Mi sa che ci siamo già passati! Andiamo di là! Forse dovremmo dividerci! Tu vai di là e io di qua! Sono io! Mi hai spaventato! Andiamo di là! Ho un brutto presentimento! Andiamo avanti! Questo significa che succederà qualcosa di brutto, vero? E' Udo! Fatemi uscire! Sto morendo! Gli uomini sono così infantili! E' solo una rete! Eh sì! Lo sapevo! Stavo solo controllando la tua reazione! Andiamo! Allora che facciamo con questa palla della morte? Cercherò di passare! Aspetta! E' troppo pericoloso! Ho un'idea migliore! Organizziamo una festa! Wow! Per me va bene! La palla da discoteca è totalmente sicura ora! Ce l'abbiamo fatta! Ecco il prossimo tubo! Uno scheletro! Ehi! E' morto da un bel po'! Beh, continuiamo a strisciare! Iscriviti al nostro canale! Capito! Al subito! Grazie! Wow! E' un magazzino misterioso o cosa? Sta arrivando qualcuno! Nascondiamoci! Sento che c'è qualcuno qui! Ups! Martello o no! Sto arrivando! Cavolo! Una scatola vuota! Che sfiga! Io prenderò la balestra! Saluta le vittime! Non io! Non io! Ho preso qualcosa? Non proprio! Una sola sporca scarpa da ginnastica! Prenderò la katana! E farò quello che voglio! Mi arrendo! Mi arrendo! Addio, Fluffy! Che colpa di fortuna! E' questo l'odore di sollievo? Ti rintraccerò! Vediamo cosa succede! Prenderò della dinamite! Chi perde toccherà il cielo! Cosa? Uno, due, tre! Azione! C'è qualcuno vivo? Ha solo il mio ex! Che schifo! Quanto fumo! Sono viva! Bene, bene, bene! Sono rimaste solo tre scatole! Se vieni trapitto da una lancia... Hai chiuso! Ci è mancato poco! Ancora quello dove? Viene da qui! Oh, sì! Questa volta non sbaglierò! Una ciambella? Ecco la fonte dell'odore di vino! Sono davvero vivo! E che fai sempre così? Zitto, Sky! Altre urla! Andiamo! Phil! Amico! Che succede? Un momento! Attenti! È una trappola! Cosa? Vi va di giocare? Ehi, mercoledì! Non osare! Non puoi sparare! Ma so tirare! Ok! Attenti ai capelli! Questa è una prigione di codini! Per l'amor di Dio! Basta così, mercoledì! Smettile di fare la bulla con il mio ragazzo! Ti faccio vedere io! Te lo faccio vedere io! Una luna piena! Da qua! Non è divertente! Libera lì! Dai! Una ragazza non può mai divertirsi un po'! Ciao, Phil! Hai fatto un lavoro migliore del mio ex! Oh, che fame! Scegli dove andare! Fammi pensare! E mercoledì? Ops! Beh, siamo tornati alla noia! Dovremmo portarla con noi! Sì! Ci sta! Ottimo posto per un picnic! Ehi! Cos'ho sulla lingua? È uno scherzo, tesoro! Cosa? Uno scherzo per tutti! Aspettate! Torno subito! Greg! Greg! Posso? Voglio rispondere! Chi viene alla lavagna? Non vedo nessun volontario! Vengo io, per favore! No, non credo! Oh, la campanella! La lezione è finita! Ma non ha risposto nessuno! Insomma, conoscevo la soluzione! Un altro! Bob! Ma è che? Ops! Devo chiamare... Che diavolo ha? Uno e meno! Erika! Ci siamo! Cosa succede? Ma dove siamo finiti? E cosa c'è nel sacco? Che c'è dietro tutto questo? Confessate! Come osate intrappolare Piccio in un sacco? Oh, i ragazzi si stanno divertendo! Tu! Aspetta! Facciamo pace? Adoro le patatine! Sei libera? Ti tengo d'occhio! Ciao, ragazzi! Ma cosa vuole? Vedete quelle scatole? Nascondetevi! No! Il nascondino è un no secco per me! Sei sicuro? Nerone! Fagli cambiare idea! Uno scorpione! Nascondiamoci! Siamo tutti a posto allora! Uno, due... Ehi! La stella è mia! Cerca un altro posto! Pronti o no? Arrivo! Scegliamo un assistente per il primo turno! Sarà... Una palla con le punte! Adorabile! Senza dubbio la migliore arma medievale! Buon Dio! Cos'ha preparato? Con quale scatola dovrò iniziare? La Gio! Vai a prendere il dalmata! Non sono io! Chi è il nostro cane fortunato? È vuoto? Ah! Che sfortuna! Vattene, pallone gonfiato! Sei licenziato? Ehi, ragazzi! Sapete che si nasconde nelle scatole? Scrivetelo qui sotto! Grazie! Cosa ci aspetta questa volta? Oh! Un incendio! Streghe, attenti a voi! Dove metto la legna? Lontano da me! Che caldo fumante! Un segno di vita! In questo caso accenderò un fuoco accanto a questa rumorosa scatola Il fumo ti farà uscire da qui chiunque tu sia Cosa? No! Porta via quel fuoco! Diamogli un po' di tempo Finché non sarà pronto Sembra un vero falò C'è davvero del fumo? E' agghiacciante! La mia scatola si sta trasformando in una sauna! Perché ci vuole così tanto? Forza, sarcofago! Sono qui per uno scato? Cosa? Ehi, chiudi il coperchio! Ci stiamo rilassando qui? Scusa! Ma cos'è stato? Per un pelo! Mi ha fregata! Ok! Grazie! Cosa? Bene, puoi restare con me! Continuiamo a girare! Cappello magico? Beh, è l'ora della magia! Ciao! Sono assistente mano! Mi prendi una spada? Grazie mille! Una spada non è un buon segno! Mancato! Sono stato di nuovo fortunato! È incredibile! Manu, dammi una sega! Ti prego, no! Sta segando il professore o cosa? Ora arriva lo spettacolo! Brava! Brava! Grazie! Lo apprezzo molto! Bob è fuori! Sono vivo! Oh no! È un trucco fantastico! Grazie! Perché sei qui? Ah, è giusto! Vattene! Ragazzi, venite! Ok! Lo spettacolo continua! Cosa dobbiamo fare? Guarda! Ci sono nuove scatole! Nascondiamoci! Uno, due... Io rivendico il cerchio! No! Io rivendico il cerchio! No! È mio! Lascialo! Greg! Cosa sta facendo? Sai? Non importa! Beh, non riesco a infilarmi in una X! Cosa faccio? Ambarabaci ciccucco! Forza, nasconditi! Tre gibetti sul comò! Ovviamente la risposta è X! Ecco la mia scelta! Ma come faccio a entrarci? Devo piegarmi all'indietro! Un buon riscaldamento mi aiuterà! Devo allungare tutti i muscoli! E il collo! Ha funzionato! È passata una vita! Oh, tiro con la balestra! Andiamo a caccia! Bene! Scegliamo un bersaglio! Oh, certo! Un cerchio! Sarà un gioco da ragazzi! Ecco il mio bersaglio! Avevo del succo da qualche parte! Mirare? Cuoco! Ce l'avrà fatta! Oh! Credo di aver esagerato! Il sangue non viene via facilmente! Eww! È solo succo! Dov'è il ragazzo allora? Continuiamo a cercare! Succo di frutta e un biscotto? Grazie! Continuiamo a girare! Oh! Una falce! Il pezzo forte del mio idolo! Devi andare! Fuori! Non possiamo sopravvivere insieme! Allora chi devo abbattere? Ehi! Cosa sono questi messaggi? Le lezioni sono sospese! Povero professor Bob! Quel tipo è fuori di testa! Niente lezioni! Ops! Presa! Sto arrivando! Taglionetto! Ehi! Ciao! Fuori! Hai perso? Liz è fuori! Ops! Finalmente! Il mio collo è intorpidito! Fuori! Bene! La mia X non ci passa! Passa di lato, Craig! Dove ci nascondiamo? Armadietti? Siamo morti! L'aula! Per l'amor del cielo! Non si apre! Perché non tiri? Oh! Giusto! Dobbiamo nasconderci! Io andrò sotto il banco! Greg? Credi che sia al sicuro? Bene! Andrò altrove! È una causa persa! Ci serve un altro posto! Zitta! Senti i passi? È vicina! Non ce la faccio più! Svegliati, Greg! Corri! Altrescato! La sento arrivare! Forza! Alzati! Sei estremamente pesante! Ok! Stai giù! Ma non muoverti! Ecco! Ho un'idea! Uno, due, tre! Pronti o no? Arrivo! Una pistola con acido? Un abbinamento perfetto! Con quale scatola inizio? Questa! Cosa? Nessuno? Che sfiga! Facciamo girare! Pokeball! Insineroar! Scelgo te! Prendi! Nessuno! Hai fallito! Torna a casa! Una katana! Facciamo a pezzi le scatole? Un altro fallimento! Non riesco a prenderne uno! Un giocatore di football! Quella scatola laggiù è il tuo avversario! Touch it down! Allora, sono stato bravo? Fuori dal campo! Dinamite! Vuota! Un pallone! Goal! Pignata! Solo caramelle! Le mie api! Finalmente qualcosa di decente! Volate in questa scatola, ragazzi! Cosa? Non c'è nessuno neanche qui! Dove sono andati tutti? Voglio dire... Ma certo! L'ultima scatola! Uscite! C'è qualcuno vivo lì dentro! Vi ho trovato! Bene! Prendiamo misure drastiche! I calzini sporchi dello zio Fester! Cosa? Non funziona nemmeno questa! Ma chi c'è lì? Sta dormendo profondamente! Ok, non lo sveglierò! Ho trovato Greg! Quindi è fuori! Resta solo Erika! Dove sarà mai? Tutte le scatole sono aperte! Dove si nasconde? Mi hai trovata! Per favore! Niente torture! Calma te! Hai vinto! Congratulazioni! Ora puoi andare!